Il suo obiettivo era uccidere la moglie, l'ha aggredita prima con un martello e poi quando l'arnese si è rotto con un coltello. Fortunatamente l'uomo, un 43enne marocchino, è stato bloccato dal padre della donna che è riuscito a disarmarlo. La violenza è esplosa ieri pomeriggio in un appartamento di Via Vivanti nel quartiere Guizza, a Padova, dove una 38enne marocchina è stata aggredita dal marito che armato di martello è riuscito più volte a colpirla la testa. La donna si trovava a casa dei genitori in attesa dei figli che uscivano da scuola. Non si capisce come mai il marito abbia deciso di raggiungerla lì e di entrare in casa, sconosciuti anche i motivi all'origine dell'aggressione. Dopo averla colpita la testa, il martello si è rotto e così il 43enne ha cercato di raggiungere la moglie con un coltello preso in cucina. Grazie all'aiuto del padre di lei, l'uomo è stato disarmato e la donna è riuscita a scappare. All'arrivo della volante della polizia, l'aggressore si era già allontanato, ma è stato rintracciato non molto distante dalla casa di Via Vivanti, dall'altra volante del commissariato Stanga. Il marocchino di 43 anni, regolare sul territorio, è stato arrestato per tentato omicidio e portato in carcere.